Siamo qui nella post partita di Torrino contro Città di Pomezia con il capitano del Torrino, Alessio Cennicola. Ciao, ciao, buonasera. Allora, innanzitutto complimenti per la prestazione, per la partita. Chiaramente è un match che lascia un po' l'amaro in bocca per come è arrivato. Loro veramente hanno fatto un tentativo in porta e sono riusciti a trovare la via del gol. Per il resto voi sempre propositivi in avanti, anche dietro comunque si avete difeso bene, al di là sempre di quella situazione che ha portato al gol di Di Crescenzo. Che ci dice, Alessio, di questa gara? No, io innanzitutto sono molto orgoglioso e soddisfatto della squadra. Abbiamo fatto veramente una buona partita. Come hai detto bene tu, loro hanno sfruttato l'unica occasione che hanno avuto. Bravi loro. Noi dovevamo chiudere la partita, ci abbiamo avuto diverse occasioni. Però sono orgoglioso e contento della squadra perché abbiamo fatto un'ottima partita. È comunque un pareggio che allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Diciamo che è un po' la retrocessione. Abbiamo parlato anche con il mister in settimana, da una parte dal punto di vista sportivo è chiaramente una cosa vista come in modo negativo. Però anche un aspetto positivo c'è là, che comunque sia vi permette di mettere una base più solida per ripartire, per costruire una squadra più organizzata e anche con l'obiettivo di raggiungere subito il campionato di promozione già da quest'anno. Assolutamente, l'obiettivo è questo. Diciamo che la retrocessione ci ha compattato e ci ha unito ancora di più. Io ho detto in diverse occasioni, noi non siamo solo una squadra, siamo una famiglia. Siamo molto legati, siamo un grande gruppo, una grande squadra. Si vede anche in campo perché come a Cecchina in dieci abbiamo ribaltato e abbiamo fatto una vittoria da grande squadra. Oggi comunque il Pomerzio è una buona squadra. In campo ci siamo stati, abbiamo corso uno per il compagno. La retrocessione, se dobbiamo vedere il lato positivo, ha servito a unirci ancora di più. Unisci ancora di più, però chiedo a Talesso che se leader, un po' uomo spogliatoio della squadra è una squadra ottima, però cosa manca ancora per migliorare? Io dico sempre che il male di questa squadra siamo solamente noi stessi. Noi decidiamo se possiamo vincere o perdere le partite. Io credo, ho talmente una considerazione tanto grande di questa squadra e di tutti quanti che noi abbiamo in mano il nostro destino. Dalla prima giornata fino alla ventottesima, quando andiamo in campo, noi siamo padroni del risultato. Se facciamo il nostro, arriviamo ai nostri obiettivi.